Dobbiamo migliorare tanto nell'atteggiamento e nella bravura di giocare a questi tipi di partite perché per tanti era una delle partite che non avevamo mai giocato, era una delle prime apparizioni in Champions League e quindi la diversità di personalità e di bravura per giocare a questi tipi di gare le vedi, quindi ci servirà per una crescita futura. Dobbiamo migliorare soprattutto nella fase di riconquista, quando perdiamo la palla dobbiamo essere più vementi nella riconquista, quello più vicino deve andare ad attaccare la palla, mentre tante volte quando la perdiamo pensiamo ad altro, però abbiamo giocatori giovani che non hanno ancora questo tipo di partite nella testa e quindi magari la possono soffrire un po' di più, però hanno fatto tutti una buona partita, poi un po' di stanchezza è arrivata perché non abbiamo neanche la possibilità di far vuotare i giocatori e quindi era normale andare a soffrire contro il Barcellona. È un anno di costruzione però vogliamo raggiungere i risultati, non sono qua per costruire e non raggiungere le vittorie, ci vorrà magari un po' più di tempo però dobbiamo sapere che i risultati devono arrivare attraverso un tipo di gioco che magari stiamo facendo un po' fatica ad assimilare, però dobbiamo anche aspettare i giocatori che sono fuori perché ne abbiamo importanti da recuperare e quindi quando saremo poi al completo avremo anche più scelte per far riposare qualcuno e far girare.